Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light, oggi sono qui con un video diverso dal solito, infatti non parliamo di PC, di Windows, ma parliamo di Android o comunque qualsiasi smartphone, Apple, Huawei, di ogni genere. Quindi eccoci qua ragazzi, io penso che questo video merita tanto, perché comunque vi parlerò di Verimobile, che è un classico operatore telefonico come tutti gli altri, però io penso che Verimobile abbia qualcosa in più e volevo condividerlo con voi, perché come sapete sul mio canale vedete un sacco di video sul ottimizzare Windows o comunque avere sempre il PC alle massime potenzialità e allo stesso tempo con questo video voglio portarvi una sorta di avere alle massime potenzialità il vostro cellulare, la connessione ad internet tra parentesi. Ho fatto da qualche giorno la sim Verimobile, che è quella che state vedendo qui sul video e ci sono varie promozioni, potete fare la portabilità oppure scegliere un nuovo numero. La portabilità da 5 euro o 7 euro al mese vale per questi operatori che state vedendo, poi ovviamente vi lascio il link in descrizione per controllare voi stessi se magari siete interessati. In questo video vi farò vedere anche la mia velocità di download e di upload con la sim. Io al momento utilizzo i 100 giga minuti sms limitati a 7 euro al mese. Inoltre ve la consiglio soprattutto perché avrete un mese di ricarica omaggio, se ovviamente fate la portabilità per quanto mi riguarda, e a me ha funzionato, infatti adesso vi lascio lo screen qui in video. Inoltre se inserite il codice che vi do e vi metto in descrizione, riceverete entro qualche giorno lavorativo altri 5 euro in più sul vostro credito nella vostra sim. Qui in video ragazzi vi lascio la velocità della mia connessione ad internet con la sim Verimobile. Chiaramente dipende dalla zona, quindi la velocità andrà a cambiare in base alla zona in cui vi trovate. Io vi consiglio sempre, prima di acquistare qualcosa, di andare sul secondo sito che vi metto in descrizione, che è questo qui ragazzi, vi fa capire se Verimobile prenderà bene con la linea. Andate in basso, cercate qui la vostra zona. Abbiamo a disposizione tre cose, il 2G, il 3G e il 4G. Ovviamente il 4G è quello più veloce e più potente, quindi andremo a selezionare questo, e a mettere la nostra via di casa, oppure semplicemente la città, se proprio non vogliamo mettere la via di casa, per vedere se il 4G in quella zona è presente. Come vedete, se vedete la zona colorata di giallo molto scuro, vuol dire che lì c'è tutta la copertura. Se vi state domandando su quale rete si appoggia Verimobile, è Wind 3, il vecchio Wind che poi si è trasformato con il tempo in Wind 3. Quindi potete fare già un 2 più 2, nel senso che magari se in passato avete avuto Wind 3 o conoscete qualcuno che abbia avuto Wind e si è trovato bene, ve lo consiglio, ecco. Io mi sto trovando molto bene in questi giorni e ragazzi ho deciso di fare questo video perché come vedete avete una ricarica in omaggio se fate la portabilità da questi operatori che vedete qui, in prima finestra. E ne vale veramente la pena perché davvero è veloce, almeno nella mia zona, carica veramente dei file in maniera velocissima. E per quanto mi riguarda ragazzi, l'assistenza è sempre presente, qualora voi doveste avere dei problemi. Vi lascio chiaramente in descrizione tutto l'occorrente, se avete bisogno dell'assistenza e tutto. Come si attiva la SIM Verimobile? Semplicissimo, dovrete avere i vostri documenti, quindi documento di identità, codice fiscale. Se fate la portabilità, inserire i dati che richiede il sito o l'app, dipende da dove volete attivarvi, potete farlo sia via internet che via app. E durante l'attivazione vi farà registrare un breve video con i vostri documenti in mano e dire una semplice frase che vedrete poi successivamente quando farete l'attivazione che dovrete ripetere ad alta voce per farvi attivare la SIM. Ma è davvero molto semplice, a me personalmente la SIM è stata attivata in 20 minuti dopo aver mandato i miei dati personali e mi sto trovando veramente bene perché ragazzi calcolate che sono 100 giga e sono veramente tanti, inoltre avete minuti SMS illimitati ad un prezzo veramente straordinario. Io con 7 euro al mese ragazzi ho davvero 100 giga minuti SMS illimitati. Potete attivarla online oppure in un negozio adatto, fisico chiaramente. Se durante l'attivazione andrete ad inserire il mio codice amico avrete sia io che voi 5 euro di ricarica in omaggio. Oltre chiaramente al mese di ricarica omaggio se attivate questa offerta solo per i clienti che fanno la portabilità. Se invece volete fare un nuovo numero non c'è purtroppo la promozione di ricevere un mese di ricarica in omaggio ma avrete comunque i 5 euro se inserirete il mio codice. Vi lascio il necessario come dicevo in descrizione. Io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto. Se vi consiglio qualcosa è perché veramente lo reputo molto ma molto utile. Ciao e alla prossima da Mary Light.